il meglio della nostra storia ed il nostro irrinunciabile desiderio di essere pienamente degni. Il nome è Vezzali. E allora, poiché in sede di Presidente di gruppo, la conferenza dei capigruppo, è stato stabilito che la votazione per appello nobinale abbia luogo a partire dalle 17, adesso sono le 17 e meno 20, noi sospendiamo per riprendere alle ore 17. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie. Grazie.